Sandra Milo dovrà essere risarcita dal comune di Canicattì di 10.000 euro, lo ha stabilito il Tribunale de Grigento, un contenzioso partito quattro anni fa quando la famosa professionista si era appellata ai giudici. Era stata nominata con determina sindacale numero 116 del 25 novembre 2009, esperta del sindaco. In pratica doveva curare gli eventi culturali e la stagione del teatro sociale di Canicattì, ma dal comune non le hanno elargito il compenso spettante. Dal canto suo l'amministrazione comunale giustificava questa scelta per motivi a lei imputabili. Sandra Milo in quel periodo partecipò al reality L'Isola dei Famosi e secondo il comune la collaborazione prestata dalla professionista era quindi scarsa. Nel corso del giudizio la difesa dell'attrice ha messo in evidenza come l'artista si sia immediatamente prodigata in adempimento dell'incarico scaturente dalla nomina, anzitutto nell'organizzazione del primo evento inaugurale del teatro sociale di Canicattì con la partecipazione di noti personaggi dello spettacolo, nonché successivamente nella programmazione e organizzazione di una corposa stagione teatrale per l'anno 2010. Quanto alla contestata partecipazione al reality show L'Isola dei Famosi, i legali di Sandra Milo, gli avvocati Fabio Licalzi e Alfonso Napoli, hanno evidenziato come la nomina comunale non prevedesse alcuna clausola di esclusiva. Il Tribunale di Agrigento con sentenza 183 2015 ha condannato il comune, obbligandolo a rifondere altresì le spese di giudizio.